Stagno olio contro The Barbarian Stagno Tutti tutti? Se non me andrà 3 secondi quando appaiono eh 3 2 1 Oh ha resistito Mirà con le latite Tanto andiamo bravo Usa la mossa Bravo Non è morto Non è morto Non ci voglio mamma mia maledizione Mi ha sciso Stagno E' Stagno Ah Non batte da solo Vedi Paranormal Activity Paranormal Barbarini Mamma mia Sony Sto sudando Che drago Vai vai Fagli addosso Dalli un calcio Fagli un pulno Stendilo Bravissimo lui stai Accidenti Maledizione Koper Tyson Contro The Barbarian No 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 Horco cane Vagina Ciao Gina Vai Gina No 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 ma picchiano una freccia picchiano io seguo le mosse del barbo e ora se le cambrano l'uscita? no non c'è l'uscita l'uscita? non c'è l'uscita? non c'è, dai l'uscita e vroom 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 e alla fine dio cacao dio burro cacao e secco e se che? non c'è se che è che il regno ma se non ci si fa anche il bacon chi l'ha detto? io adesso mi impegno da 10, 15, l'ambusciolo bravissimo questa sera bella grazie lo diceva sempre mia mano accaduto con la fama bro 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 cosa stai facendo? la mamma del barbara lo prende in bocca la mamma del barbara la mamma del barbara la mamma del barbara falle spade falle scise falle scisa 3 h4 la mamma del barbara 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 il barbara il barbara il barbara cucciolino bravo va a casa torna a casa bimbo torna a casa Lessi torna a casa oh il cane più stucido casa Lessi morto è morto è morto hai bisogno di più energia ecco io ho bisogno di una nuova vita è morto perchè prima ce l'ho fatto scusate hai capito scusa hai capito scusa hai dovuto fare l'orecchia guarda guarda lì tu muori per il veleno prima di fare il livello ma forse se ce la da spera mamma mia scioli ahahahahah insieme epic death double kill attenzione 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 incredibile una bella partita bravissimo il barbara si sta comportando veramente bene ha tirato un colp e l'ha ucciso doppia attenzione di quelle rare che non si vedono insomma bravo 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 c'è sempre lui eh guarda ha comportato bene nel senso lì sembra morto attenzione attenzione call 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 basta si mi sta a buscarne o vuoi che si da qualche colpo no voglio solo buscarne posso provare io no voglio provare io per indio se non l'ammazzo io voglio provare io no non mi fai alterare alterati chi sei come ursula della sirenetta c'è ursula non era un po' ma che cazzo quella è ursaring no 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 oh no oh no oh no ecco sembra di essere finta aveva già visto lo fanno vedere tutti gli anni questi minuti dai stai a citare stai a citare tutti che tu c'hai il cervello il culo è un bacio bellissimo è esploso ma senti il nucleare ecco la cosa era un uccone si ma perchè dai ho visto niente io ero poison posso già arrivare c'è il pezzo tamarro il pezzo tamarro dai ti prego c'è il pezzo tamarro dai ma voglio farlo io no dai è strecca da prosa a tutti si ma vaffan chiulo vaffan nucleare vai prima immagine vaffan nucleare vai forse la vittoria non ho salvato e ora ora il raspo di le verde la mano di lucella oh mamma ma mamma 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 ma è otte due minuti devo stoppare o no sì direi di sì se vuoi fare il video al rol martin cucciolino